buon suorio, la vita ci sorriderà, speriamo, non è mai dell'aiuto, ma noi in generale, nemmeno non in generale, ma speriamo allora che sorrida a loro che ci stanno guardando, o che ci guarderanno, o che ci avranno già guardato, o che non viene a fregare a niente di noi ma ci guarderanno per prenderci in giro, assolutamente è possibile, Shantel, tu lo sai che siamo vicini al Natale, lo so, mi piace il Natale, a te piace, tu non sei come il Grinch, no, io adoro il Natale, si, it's the most wonderful time of the year, abbiamo fatto, facciamo fare la recita ai bambini di Natale del Grinch, bambini di otto anni, insomma è un po' rischio, un po' comace, e invece no, però che ci sono grandi chance di poter vedere, c'è grande margine, grande potenziale per lui Shantel, ma lei ha pensato alla citazione? Sì, ma io lo so che lei ha pensato a fare questo, assolutamente, lo sapevo, e io posso sapere già dove è andato a parare, ma prima le faccio questa citazione io, ehi, 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 tristi, mi hanno detto che ho degli occhi tristi, ti ho pensato addosso il pumo e il whisky, faccio certe cose e tu sparisci, è una canzone interessante, ma la tua citazione è ancora più bella, io lo so. Ehi, sto mangiando schifezza e guardando un film da grandi, venite a impedirmelo! Allora, beh, ragazzi, questo ha fermato a vedere, siete ben distrutti, questa è la fegna, 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 questo questo c'è, ma sentite una cosa, ti giuro, perché? Ma noi diciamo sempre parolacce, ma tu non hai mai visto, ma vergogna, vuoi venire a salutare come quello ha, officiale? No, vabbè, volevo salutare, sono molto triste stasera, perché purtroppo il manocco è uscito. Ma stasera cosa, che è il giorno dopo? Stasera o comunque domani mattina, o domani scolastico, o domani sera. Ok, domani sei veramente il guardo, devi far dire un'altra parolaccia. Sarà un giorno migliore. Vedrai. Ma lo vedremo, vedrete, vedranno, 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 vedremo. Il mercoledì prossimo vedrete delle belle. Eh, che cosa vi aspetta? Ciao! Ciao!